della città. Turismo e il Comune di Pisa lanciano una nuova campagna di comunicazione per promuovere ogni angolo della città e non soltanto quelli più noti. Il turismo è un settore fondamentale, trainante della nostra economia e quindi richiede anche una visione e una capacità prospettica. Quindi per questo motivo noi non possiamo assolutamente abbassare la guardia ma dobbiamo continuare a lavorare. Una campagna di promozione dal titolo Where is the Tower per far conoscere in Italia e all'estero l'offerta turistica pisana nella sua totalità lasciando la torre sullo sfondo. Punta su questo la campagna di promozione per attrarre e allungare le presenze in città curata dall'assessore al turismo del Comune Pesciatini attraverso la produzione di video spot, foto e contenuti multilingue. Dopo aver raggiunto l'alto numero di presenze, gli oltre 2 milioni appunto di ospiti in città abbiamo la necessità adesso di aumentare anche la capacità di permanenza in città. Da qui nasce la necessità di far conoscere tutto quello che è il contesto territoriale. 5 macro aree, arte, mare, natura, tradizione, scienza per valorizzare l'essenza di Pisa. Abbiamo lavorato per realizzare due campagne di comunicazione multisoggetto per due pubblici distinti, una per il pubblico nazionale ed una per un pubblico internazionale. L'obiettivo è quello di raccontare Pisa andando oltre la torre, quindi una narrazione attraverso le sue bellezze più e meno note. L'obiettivo è proprio quello, quello di dimostrare quella che è l'offerta turistica complessiva attraverso una narrazione uniforme e univoca che possa raggiungere il maggior numero di visitatori sui social, su tutti quelli che sono i media.